il controllo che è stato abolito era un controllo anche c'è un tipo di controllo che va nel senso anche propulsivo di coadiuvante delle pubbliche amministrazioni non era un controllo fino a se stesso non è un controllo censorio è un'azione propulsiva che non interferisce con l'azione amministrativa i ritardi non sono ascrivibili al controllo della corte dei conti attenzione i ritardi sono ascrivibili alle situazioni che sono state bene descritte prima non al controllo un flash un flash deve andare in pubblicità un flash invito a un bagno di umiltà invito a leggersi l'intervista pubblicata al corriere di questa mattina del professor cesare mirabelli presidente merito della della corte costituzionale allora lele gazzariti a questo punto vabbè allora e si poi i costituzionalisti sono come dire di un giornale che oggi non ha pro e conto pubblicità ci vediamo tra poco e parliamo di quello che sta succedendo